Ciao, siamo Nino e Joshua Ghizzoni per Bohemian Media. Oggi è domenica 13, siamo Siziano e giriamo la feature film della Nissan 200SX di Fabio. Lo stiamo aspettando, abbiamo già settato le camere e Fabio in questo momento mi sta chiamando, per cui metto giù un attimo. E azione! No, non guardarmi! Scusami, da capo, da capo, da capo. Prima sei che due coglioni, un po' di sbuffo. E poi dici, poi fai questa, guardami. Ok? Poi pensa veramente alla tua macchina, così viene meglio. L'espressione è scazzato e azione. Perfetto, grande. Ok. Grande. Piano quei dossi perché... Sono perso. Cazzo l'ho perso. Come l'hai perso? L'ho perso perché era troppo veloce. Questa è la video, il video reazione di Fabio al suo, il suo video. Andiamo. Andiamo. Ehi, molto sempre tutto qua. Sì, sì, sì. Carina, è una serie. È la giacca. Porco lui senza gli occhiali, guarda che come metti gli occhiali? Che faccio l'occhio? Nessai sposti, guarda. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti